Buongiorno, sono Gianni Di Blasi, sono il direttore della Vittoria Mercati. La Vittoria Mercati è una società partecipata interamente dal Comune che gestisce i servizi all'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria. Oggi presenteremo Serva Mercati, che è un database a cui possono accedere tutti i concessionari del mercato, dove troveranno i dati relativi a tutti i commercianti che operano nel mercato ortofrutticolo. Questo darà la possibilità a tutti gli operatori del mercato di valutare se lavorare o meno con i commercianti che operano all'interno del mercato. Oltre questo noi presenteremo a breve anche la mercuriale telematica e quindi sarà una media ponderata dei prezzi che si formano all'interno del mercato ortofrutticolo e oggi anche illustreremo brevemente il sistema di accessi del mercato sia in entrata sia in uscita. Abbiamo censito quasi mille produttori, abbiamo quasi 900 token che sarebbero il pass che utilizzano sia gli operatori commerciali sia i concessionari per entrare all'interno del mercato e tutto questo servirà per dare una maggiore regolamentazione della struttura mercatale.